Terza edizione della stagione, noi abbiamo iniziato questo percorso dandoci degli obiettivi precisi di proporre Arezzo come città della musica e di portare ad Arezzo l'eccellenza e mi sembra di poter dire che in questi due anni l'abbiamo fatto e continuiamo a farlo con queste stagioni di altissimo livello. Grandi orchestre, musicisti di fama internazionale, bel canto e l'eccellenza della danza torna così per la terza edizione la stagione concertistica retina. Voglio ricordare che questo sarà il terzo anno in cui il Maggio Musicale Fiorentino viene a fare uno spettacolo ad Arezzo con un direttore importante e infatti ospiteremo questo spettacolo che è il 27 di gennaio al nuovo auditorium Caurum Hall come si chiama oggi con questa nuova sponsorizzazione ma anche gli altri, il ritorno del maestro Renzetti il 2 di maggio, il concerto di Natale ed è ora del 23 di dicembre con l'Orchestra del Veneto, l'anticipo dello Youth Festival a ottobre insomma è una importante stagione che dà lo stimma ad Arezzo di Città della Musica. Visto il successo dell'anno scorso abbiamo deciso di riproporre un evento di danza anche quest'anno all'interno di questa stagione meravigliosa che presentiamo oggi sarà una serata in cui avremo la possibilità di vedere le più grandi stelle del mondo della danza ci saranno i primi ballerini dei più importanti teatri del mondo dal Royal Ballet alla Scala al Teatro dell'Opera di Roma per cui sarà una serata anche quella di altissimo livello. Allora innanzitutto ricordiamo che il 23 dicembre inizierà la prevendita online al Teatro Petrarca detto questo sì ci aspettiamo come l'anno scorso che ci siano richieste che non riguardano soltanto Arezzo e la provincia d'Arezzo l'altro anno per i concerti abbiamo avuto pubblico da diverse parti d'Italia chiaramente con dei numeri non giganteschi però questo segna l'attenzione per i nomi che riusciamo a portare ad Arezzo che hanno una eco che va molto oltre direi anche internazionale se ricordo quello che è successo con l'Anitrebco.